Ciao, io sono l'ingegnere Riccardo del mondo di isolare la casa e oggi voglio parlarvi che con l'isolamento è possibile poter godere la propria casa senza preoccupazioni. Cosa vuol dire senza preoccupazioni? Vuol dire dopo un giorno di lavoro, che sei stanco, stressato, entri nella tua casa, cieni con la tua famiglia, ti siedi sul divano e tutte queste azioni le fai senza mai avere freddo, senza mai avere troppo caldo, avendo un'aria sempre pulita e senza soprattutto preoccuparti che per ottenere questo devi spendere troppi soldi di riscaldamento. Bene, tutto questo è possibile. Ora, ogni casa è diversa da un'altra e quindi se fai da solo queste scelte spesso puoi incorrere in errori, tipo errore primario, cambiare le finestre prima come di isolare un sottotetto. Ora, le finestre per quante tu ne abbia nella tua casa, si parla di 10 metri quadri di finestre, ma di sottotetto ne hai oltre 100 metri quadri, quindi alla fine anche se tu vai a lavorare su quei 10 metri quadri, spendi sicuramente tantissimo, perché le finestre costano tanto, ma va a intervenire su poca superficie. Quindi bisogna affidarsi a persone esperte che ti sape indicare quali sono gli interventi che costano pochi, ti danno tantissimo e poi andando avanti vai a raffinare il tuo processo di riqualificazione energetica. Ti faccio solo un esempio. Se tu per esempio vivi in un appartamento dove sotto c'è un altro appartamento riscaldato, sopra c'è un altro appartamento riscaldato e tu verso l'esterno ne hai solo tre lati. Se vai a riempire l'intercapede di questi tre lati, tu mi vai a lavorare su più dell'80% della superficie dove butti via il calore e questa attività ti costa meno di 2.000 euro. Quindi sono cose che ti costano pochissimo e ti danno veramente risultati enormi. Se vuoi sapere di più visita il sito isolarealacasa.it oppure chiamami direttamente il mio numero è 335 70 43 319. Ciao alla prossima!